Andiamo a vedere come è possibile impostare i settaggi base di EnviMet andando qui su basic settings appunto. La prima cosa da fare sarebbe quella di inserire la località in cui andiamo a lavorare, per esempio in questo caso Roma. Andiamo qui e lui in automatico andrebbe a mettere l'antitudine e longitudine nonché i riferimenti alla zona temporale, quindi il gtm più 1. Una cosa che ho notato effettivamente, queste coordinate rispetto alle coordinate per esempio di Roma Termini sono leggermente diverse perché se andassimo qui su Google Maps e per esempio qui proprio su Roma Termini andassimo a scegliere cosa c'è qui, vedremmo che le coordinate in sessadecimali sarebbero 41, 90, 12, 50, mentre qui è riportato 41, 54, 12, 30. Non credo che cambi moltissimo, ma in ogni caso se qualcuno volesse potrebbe modificarle. Da quest'altra parte invece ci sono le informazioni riguardanti la griglia di EnviMet. Tra questi vediamo subito l'X, Y e Z grids, ovvero il numero di box nei rispettivi assi X, Y e Z, la grandezza di ogni box, ovvero il delta X, Y e Z. Per spiegare meglio il comportamento di questi valori ho preparato un piccolo schemino che rappresenta un modello EnviMet qualunque. Le dimensioni di questo modello effettivamente le vediamo qui sono di 20 metri per 7,50 metri per 24,50. Vorrà dire che per farlo entrare dentro il modello di EnviMet questo dovrà essere grande almeno di queste dimensioni. E quindi andiamo a vedere come impostare appunto i valori di X grid e Y grid. In questo caso ci muoveremo solo in bidimensionale, però il discorso in 3D è il medesimo. Vado a costruire un numero di quadrati di 4 metri per 4 metri sufficienti per inglobare tutto quanto il nostro modello. Nello specifico credo che 7 quadrati per 5 quadrati siano sufficienti. Quadrati da 4 metri ma se io volessi una definizione maggiore in quanto in 4 metri io riesco in realtà a occupare una sola informazione per quadrato in questa maniera avrei quasi tutto riempito quindi ho una definizione molto bassa. Abbassando il DX e il DY per esempio a un valore di 1 metro per 1 metro mi rendo conto che neanche 10 quadrati saranno sufficienti. Aumento quindi il numero di quadrati portandomi per esempio a 25 per, guardiamolo dall'alto, 25 per diciamo 20. In questo modo avrei molti spazi che potrebbero rimanere vuoti e far passare quindi il fluido. Ma tutto questo non basta perché per poter funzionare il modello di EnvyMet purtroppo deve essere inglobato in una griglia ancora più grande del modello stesso. Per capirci, riguardiamo in 3D l'inviluppo totale, questi 7 metri e 50 per 20 per 24 e 50 sono stretti. Il vero modello effettivamente andrà inglobato appunto in una griglia tridimensionale ancora più grande. Ho aggiunto diversi quadrati bianchi, chiamiamoli così, intorno a tutto il perimetro e in altezza. Questo, almeno per quanto riguarda il perimetro, si traduce su EnvyMet nell'inserimento di questo valore, number of nesting grid. Per esempio, se io inserissi il 3, avrei 3 volte il delta x su lati x, 3 volte il delta y sui lati y, ovvero 3 volte 2, quindi 6 metri, diciamo così, a destra. 6 metri a sinistra, 6 metri in alto, 6 metri in basso, rispetto alla pianta però. Per quanto riguarda invece il delta z, questo non viene aumentato e dovrà essere quindi ben valutato il valore di delta z per non sforare il tetto massimo della griglia, quella verde che vedevamo prima. Ma effettivamente EnvyMet quanto spazio ci dà a disposizione? Se andiamo a riaprire il quartier generale, possiamo fare una scelta per quanto riguarda la griglia. EnvyMet ci dà 3 versioni di questa griglia esterna. 100x100x40, 150x150x35, 250x250x25. Come potete notare, all'allargarsi delle dimensioni in pianta x, y, z, c'è un abbassamento della dimensione verticale di questa griglia. Questo è dovuto anche al fatto che con grandezze di 250x250, effettivamente, c'è un numero spropositato di calcoli che dovrà fare il programma. Per capirci, per fare un conto molto semplice, 8 ma efficace, 250x250x25. Sono 1.562.500 valori da calcolare nell'arco di 24-48 ore, che è un numero esagerato di operazioni che terrà il nostro computer occupato a calcolare anche una settimana. Da questo capiamo anche quanto è importante utilizzare quindi un modello semplificato della realtà, piuttosto che un modello raffinato. Ora, come faccio a capire effettivamente se ho lasciato abbastanza spazio intorno al mio modello? Le dimensioni che avevo impostato qui, su questo modello esemplificativo, non sono da prendere ad esempio, però è possibile far fare una verifica delle condizioni di nesting al programma stesso, andando su Tool e su Model Inspector. Qui, quando ci sarà un modello, adesso velocemente disegnerò una casetta così al centro, disegnerando qua, abbiamo subito un calcolo rapido. Lui mi dice che avrà abbastanza, sufficiente spazio al di sopra del modello, nella parte superiore del modello, ma non ne ha lateralmente. In alcune versioni del programma, purtroppo, queste colorazioni dal verde al rosso non sono presenti, però la scritta comunque sarà ben chiara se c'è abbastanza spazio oppure no. Spiegata così, effettivamente questa cosa ha un po' l'aria di essere una presa in giro, perché allora di quanto spazio può mai aver bisogno Endymet intorno al mio modello? Andiamo a vedere effettivamente in 3D, nella vista, nella 3D View, quanto spazio c'è intorno a questo modello. A me sembra che ce n'è tantissimo, ma comunque mi continuo a dire che non sta funzionando, che lo spazio tra i building e il bordo del modello potrebbe essere un po' più largo. Ok, il problema in realtà non è così grave, ed è dovuto al fatto che io non ho inserito praticamente nessuna griglia di nesting. Prima avevo ipotizzato di metterne 3, ma poi non ho più applicato. Ok, per applicare questo nesting io dovrò ottenere il minor spazio possibile all'interno del modello, e andrò quindi a ritagliare con questo tool, faccio prima una selezione, primo bordo e secondo bordo, ingrandisco un po' per vedere meglio, andrò a ritagliare intorno al modello l'area che non mi interessa, questa che è rimasta bianca. Utilizzerò lo strumento Cut Area Tool, che mi ridurrà appunto la griglia ai minimi termini. Se vado su Project a questo punto, Basic Settings, avrò 17x17 e ancora 30 in verticale. Posso anche andarla a vedere nella 3D View e adesso avrei teoricamente meno spazio vuoto rispetto a prima. Però non dimentichiamoci che questa griglia va confrontata con l'altra griglia, quella che viene citata qui nel calcolo di Envy, mette 100-100, 150-150 o 250-250. Che succede quindi se io vado a visualizzare il modello Inspector? Adesso mi dice che c'è ancora meno spazio di prima. Eh sì, perché effettivamente il numero di Nesting Grid è ancora 0. Proviamo a mettere 3. 3 per 2 sono 6 metri. Sarà sufficiente? Scusate. Andiamo su Tool, Model Inspector. Siamo tornati nella condizione mediana. Solitamente ci vogliono circa 10 metri di spazio intorno. 10 metri significa, in questo caso, con il delta x e delta y uguale 2, significa almeno 5. Andiamo a vedere se ho ragione. No, ancora un pochetto. Arriviamo a 6 metri. E c'è abbastanza spazio a questo punto. Un'ultima considerazione rispetto al delta x e delta y è quella di inserire valori non troppo grandi, ma neanche troppo piccoli. Di suo il modello accetta da mezzo metro in poi, ma per consiglio personale non vorrei mai scendere sotto il metro. E un'altra cosa ancora, cercare di mantenere almeno su x e su y una maglia quadrata, quindi tenere lo stesso numero. Se avessi impostato 5 metri su x sarebbe bene mettere 5 metri anche su y. Per quanto riguarda invece il delta z, la suddivisione verticale non è così lineare come ci potremmo aspettare e come abbiamo già visto in pianta. La suddivisione verticale segue invece una logica un po' particolare. È quella che vediamo definita qui come equidistante. Quindi all z are equal except lowest grid box. Che significa questa cosa? Possiamo andare a vedere una spiegazione di questa all'interno del sito del produttore, dove si spiega con uno schemino effettivamente come viene suddivisa verticalmente, come viene suddiviso verticalmente il nostro modello. Tutti quanti i box saranno di una certa altezza, tranne i primi 5 che saranno un quinto di quell'altezza definita. Questa cosa accade per raffinare il modello nella parte più vicina al suolo, quindi dove si immagina che ci saranno anche le persone. Però è molto più semplice fare i calcoli con quest'altra situazione, questa qui nello schemino definito C. Questa condizione è detta anche telescoping, con un fattore di estensione pari però a zero, dove tutti quanti i box hanno la stessa altezza. Per impostare questa condizione, quindi tornando su EnvyMet, dovremmo andare a spuntare telescoping e non modificare assolutamente i valori. Applichiamo i cambiamenti e andiamo a vedere ancora una volta cosa ci dice il modello Inspector, che già prima abbiamo verificato presentava entrambe le scritte in verde. Nella parte sinistra di questa finestra possiamo notare come qui sono scritte le tabelle riferite ad ogni coordinata della nostra griglia, in verticale e in orizzontale. Qui possiamo vedere come appunto questa si estende di 35 metri per 35 metri, nel nostro caso, ed è alta 59 metri. Gli stessi valori li ritroviamo da quest'altra parte e sono quelli con cui lui fa il calcolo per verificare se è andato tutto a buon fine.